Ciao a tutti e a tutte ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale e a un nuovo video. Io sono Marika, in arte della postmoderna, e oggi facciamo un aggiornamento di letture. Piuttosto soddisfacenti, devo dire, tutto sommato sì. Fatemi sapere se avete letto uno o più dei libri di cui andrò a parlare velocemente e fatemi sapere la vostra opinione, perché è sempre un grande piacere leggervi. Dunque, ho letto un po' di librini. Cito soltanto, molto, molto rapidamente, Il corpo che vuoi di Alexandra Kleeman, che è stato il libro per il gruppo di lettura La squadra postmoderna di Marzo. Non prendetemi in giro per come pronuncio Marzo, per favore. Vi lascio tutti i riferimenti al gruppo di lettura, dove potete trovare le informazioni, giù in infobox e qui nelle schede, da qualche parte. Stiamo fissando la data per la diretta, per parlarne. Non so se sarà questa settimana o quella dopo, comunque, a inizio mese. Il mese prossimo, vi anticipo, leggeremo Mandibula. Comunque, trovate tutte le informazioni giù in infobox e qui nelle schede, come vi ho detto. Sul corpo che vuoi, ho fatto una riflessione, cioè, non proprio sul corpo che vuoi, ho fatto una riflessione di recente sul corpo, qui sul canale, all'interno della playlist, approfondimenti postmoderni, in cui ho citato, appunto, Il corpo che vuoi e il libro di cui vi dico qualcosa adesso, ovvero, a me puoi dirlo, di Catherine Lacy. Io di Catherine Lacy ho letto, di recente, Nessuno scompare davvero. Non mi ricordavo il titolo, sono andata a vederlo nella terza di copertina. Dunque, a me Catherine Lacy è una scrittrice che piace, quindi sono un po' di parte, come sono di parte con Otessa Moshfeg, forse Otessa Moshfeg mi piace un pochino di più. Però, se mi seguite da un paio di mesi, sapete che Nessuno scompare davvero, questo romanzo on the road al femminile, mi è piaciuto moltissimo. A me, tutto sommato, piace la scrittura di Catherine Lacy, che scrive in flusso di coscienza, ispirandosi al flusso di coscienza wallassiano, grazie Moto, ci mancavi solo tu, appunto, di David Foster Wallace, stavo dicendo. Quindi non può non piacermi. Sono di parte, nonostante i difetti più o meno oggettivi della sua scrittura, ad esempio in Nessuno scompare davvero, ho ammesso il problema di Catherine Lacy nella costruzione dei personaggi secondari che rimanevano delle macchiette all'interno di questo viaggio on the road della protagonista in Australia. Qui il problema tecnico è il dilungarsi dell'autrice, soprattutto nel secondo atto. Tutto sommato è un libro breve, quindi poco male, dico io, però si sente questa ripetizione quasi estenuante nel secondo atto della tematica che aumenta il livello di attesa per il terzo atto, quello appunto finale nel quale doveva scoppiare la tensione, che secondo alcuni lettori e alcuni lettrici non scoppia, ma io non mi aspettavo granché dal finale. Di che cosa parla questo libro? Parla di corpi, parla in particolare del corpo di questo sconosciuta, questa sconosciuta, questa creatura, non so bene come definirlo, che compare in questa cittadina americana di provincia, gli abitanti la trovano all'interno di una chiesa che dorme appunto su questa panca e cercano di accoglierla. È un romanzo sull'accoglienza di un corpo estraneo, di un corpo straniero. Oddio, detta così suona molto molto male, però spero si sia capito. Si parla quindi di accettazione dell'altro, dell'altra, di accoglienza, di bigottismo, tutto scandito dai giorni della settimana. Per arrivare poi alla domenica, giorno in cui questa comunità molto devota, molto anche bigotta, si riunisce per un rituale di gruppo appunto. In questo rituale sarà protagonista la creatura che hanno trovato e che appunto ha creato parecchio scompiglio all'interno di questa comunità. A me il libro tutto sommato è piaciuto, nel senso la tematica è sentita da parte mia. È una tematica che secondo me Catherine Lacy sviscera bene, infatti tutte le parti che ho segnato facendo la linguetta alle pagine, perché sapete che io sono una bestia, si riferiscono appunto a questa tematica. Ad esempio ho sottolineato quando parla di corpi, è tutto un flusso di coscienza della o del protagonista, perché non sapremo mai il genere di appartenenza o se appartiene o meno ai generi binari con cui noi classifichiamo l'altro e l'intero gruppo sociale. Si parla di corpi e in questo passaggio in riferimento alle definizioni e alle etichette che diamo ai corpi e dice, poi passo l'altro perché mi sto soffermando troppo, veniva da chiedersi allora se tutti i problemi umani derivassero dai nostri corpi, quelle cose precarie, più deboli o più forti, più chiare o più scure, più alte o più basse. Perché ci creavano così tanti problemi? Perché li usavamo per metterci l'uno contro l'altro? Perché pensavamo che il contenuto del corpo significasse qualcosa? Perché usavamo il corpo per trarre le nostre conclusioni, quando il corpo stesso è così sconclusionato, inaffidabile e anche, aggiungo io, inclassificabile, non etichettabile. Un bel messaggio, non c'è ombra di dubbio, a me è piaciuto nonostante alcuni problemi tecnici. Comunque l'ho citato insieme al corpo che vuoi nell'approfondimento postmoderno relativo ai corpi appunto nella condizione postmoderna nella quale viviamo. Poi ho letto, sempre per edizioni sur Vado Veloce, Ellie Smith Primavera. Vado Veloce perché è un libro uscito l'anno scorso, un libro di cui si è tanto parlato, o meglio è un'attrice di cui si parla tantissimo. Io la conosco poco, quindi parlo con cognizione di causa relativa. È un'attrice che a me non ispira, non ispirava prima di leggere il libro e non ispira ancora adesso. Perché l'ho letto? Perché era all'interno dell'abbonamento sur che ho ricevuto a Natale, come hai fatto vedere, quindi ho pensato, vabbè, ci provo. Ed effettivamente non è, come si suol dire, la mia cup of tea. Ellie Smith parla in questo libro il terzo della quadrilogia delle stagioni, l'ultimo in Italia dovrà uscire a giugno, e sarà estate, giustamente, parla di tante cose. Il che non è un problema per me, perché, sapete, mi piace l'arcobalena della gravità che parla di innumerevoli cose. Cioè, facciamo prima dire di che cosa non parla l'arcobalena della gravità. A me piacciono i romanzi che emettono, come si suol dire, tanta carne sul fuoco. Mi piacciono i romanzi, mi piacciono i testi in generale che diversificano molto negli argomenti e che riescono a portarli tutti a termine o riescono a svilupparli bene. Ellie Smith li sviluppa bene. Parla soprattutto di Brexit, parla di immigrazioni, parla di accoglienza, ma parla anche di arte. Uno dei protagonisti, uno dei due protagonisti, è infatti un regista televisivo che si trova alle prese con un adattamento televisivo da un testo molto, molto letterario. Quindi si parla di arte a più livelli, arte cinematografica, arte testuale, arte della letteratura, appunto. E sapete che a me il tema degli adattamenti sta molto a cuore. Quindi, insomma, aveva tutte le carte in regola per potermi piacere. C'è anche questa intenzione sperimentale dell'autrice che varia molto di tono, varia molto tra i vari registri linguistici di genere e non. Però, più che trovarlo godibile, non sono riuscita a fare. Nel senso, va benissimo la piacevolezza, per carità. Cioè, ce ne fossero di libri piacevoli come questo, nonostante alcuni problemi tecnici. Di scrittura, siamo sempre alle solite, dialog, tag, punti di vista che, boh, un po' ci sono e un po' no. Però, al di là di questi problemi tecnici, anche se chiudo un occhio su questi, il problema rimane che l'ho trovato un romanzo godibile. Punto. Il che non è un problema di base, ma in un romanzo in cui si parla di così tante tematiche importanti, trovarlo godibile e basta, nel senso che mi è rimasto abbastanza indifferente, non mi ha spettinata, come vi ho già detto, in un altro video, per me è un po' un problema. Però, questa è la mia umilissima opinione, so che ci sono molti e molte amanti della cara, che era? Cosa stavo dicendo? Cara Ellie Smith, e quindi mi fa molto piacere per lei, mi fa molto piacere per voi, se è un'autrice che amate. Fatemi sapere che cosa vi piace di questa autrice, che a me magari è sfuggito. Poi, prima di parlarvi dell'ultimo libro cartaceo che ho letto, vi parlo di Chiaroscuro, di Raven Leilani. Dunque, il concept di questo libro è molto nelle mie corde, era molto nelle mie corde. Il concept di base è quello di persone normali, no, non persone normali, scusatemi, di quell'altro di Sally Rooney, ovvero parlarne tra amici. Si parla di relazioni allargate, anche se in questo caso la relazione allargata era soltanto per lui e non per lei, ma piccoli dettagli. Si parla di relazioni disfunzionali e di ruoli di genere, stereotipi di genere che l'autrice, attraverso gli occhi della protagonista, cerca di abbattere il tutto condito da una prospettiva black, come è la protagonista, giovanissima, nera e alle prese con la ricerca di un nuovo lavoro, che inizia una relazione con quest'uomo bianco, sposato, ma secondo lui in una relazione aperta, aperta mi sembrava soltanto per lui, ma dettagli, insomma, inizia la protagonista Edith, se non sbaglio si chiama, inizia questa relazione e che sarà appunto abbastanza disfunzionale. Mi è piaciuto molto il discorso e la narrazione dei ruoli di genere e del potere che aveva la protagonista in questa relazione, poi se leggerete il libro magari ne parliamo più nel dettaglio, voglio soltanto incuriosirvi senza fare anticipazione anticipazione alcuna. Quindi, la storia, o meglio, più che la storia, il concept di base è molto forte, in realtà è molto forte per me, mi piacciono queste storie di relazioni appunto disfunzionali, poi qui non si parla soltanto di relazioni amorose, disfunzionali, ma anche di relazioni familiari complicate perché lui è sposato con una donna e con una donna bianca e decidono di adottare una bambina nera che poi andrà in cura alla protagonista. Quindi ci sono molte, molte relazioni interessanti che l'autrice ha analizzato. Mi sarebbe piaciuto soltanto, come dire, uno stile un po' più immersivo. Mi sarebbero tanto piaciute delle scene mostrate invece che raccontate, quindi sono un po' in difficoltà a dirvi che cosa penso di questo libro perché la base forte c'era, anzi c'è nel senso che è un libro che ho letto con piacere, se ci fossero state scene mostrate, scene in presa diretta, probabilmente l'avrei apprezzato molto molto di più, sarebbe stato molto più godibile, anche l'analisi dei rapporti è buona. La protagonista è una protagonista detestabile, o meglio, una protagonista dai colori grigi come tutti gli altri personaggi che le vorticano attorno, quindi anche l'ideazione dei personaggi, del sistema dei personaggi e dei loro conflitti interni, espliciti ed impliciti è molto buono. la resa non dico mediocre, però qualche scena mostrata sarebbe stata sicuramente più gradita, almeno da parte mia. Però ecco, è un esordio di tutto rispetto secondo me, spero che l'autrice possa migliorare in questo senso perché le tematiche che affronta mi interessano. Peccato davvero per la questione del mostrato che purtroppo l'autrice non sa sempre padroneggiare. Però ecco, il livello minimo di immersione era almeno dato dalla scelta di narrare il tutto in prima persona singolare dal punto di vista della protagonista. Poi, velocissimamente, ho letto Il libro delle lacrime di Heather Crystal, nuova uscita per Instaggiatore, di cui, come sapete, sono social media manager. Mi trovate quindi sul loro profilo, a blatterare dei loro libri, ma non solo, parliamo tanto anche di di altre letture. Il libro delle lacrime è stata una lettura per me abbastanza interessante. Di che cosa parla? Heather Crystal è conosciuta negli Stati Uniti per le sue poesie. Arriva in Italia con Il libro delle lacrime che è un libro nel quale l'autrice vuole ricostruire un percorso. Un percorso di che tipo? delle lacrime che ha versato. Quindi, come è stato definito sulla pagina Assaggiatore, mi trovo molto d'accordo con chi ha detto così, è uno dei vostri soliti ibridi, uno dei nostri soliti ibridi, che bello dire nostri. Mi trovo molto d'accordo perché si trova a metà tra memoir e reportage. La caratteristica del libro è la struttura molto frammentata e attraverso frammenti di ricordi, riflessioni sociali, scientifiche e anche molto molto personali, l'autrice ricostruisce questo percorso delle lacrime che ha versato. In alcuni punti mi è... Allora, vado con ordine. La struttura molto frammentata come si vede è la caratteristica principale del libro e favorisce la velocità di lettura. Questa velocità però è un'arma a doppio taglio nel senso che è una lettura godibile, risulta almeno per me, parlo per la mia personale esperienza, è stata una lettura godibile ma una lettura a tratti poco, mi è sembrato poco approfondita su alcune tematiche perché certi frammenti sono veramente brevi il che è la caratteristica dei frammenti altrimenti non si chiamerebbero tali però mi sono sembrati appunto non privi di importanza perché poi quando anche lo leggi tutto di fila e ti senti trasportata in modo proprio fluviale da questi frammenti poi mi risulta anche una bella lettura tutto sommato ma se si vanno a prendere singolarmente alcuni frammenti vi dico alcuni mi sono molto piaciuti e li ho riportati anche sulla pagina del saggiatore ne abbiamo discusso ad esempio il frammento che dice che la storia in fieri emerge mi è piaciuto l'ho proprio sentito non so cosa centri con l'intera opera però mi è piaciuto però appunto ci sono frammenti interessanti presi singolarmente che all'interno dell'economia generale del testo non ne ho capito la funzione e viceversa ci sono stati frammenti che invece legavano bene tra loro tutto sommato l'ho trovata una lettura interessante e io ho finito fatemi sapere ripeto se avete letto uno o più di questi libri se li leggerete se vi ho incuriosito e noi ci vediamo al prossimo ciao